Eccoci qui sul sito di Liccardo Rosario, Real, sullo Shopify, sullo shop, come volete chiamarlo, chiamatelo. Allora, su questo sito innanzitutto manca il box della Cookie Low. Praticamente questo sito fa utilizzo di cookie e non lo segnala all'utente. Quindi se noi andiamo in applicazione, vediamo che qui ci sono un casino di cookie. Sono tutti del sito, non sono di terze parti, però per la normativa della Cookie Low è obbligo a farne segnalazione all'utente che il sito utilizza dei cookie. Poi abbiamo, nel footer non abbiamo assolutamente nulla. Abbiamo che Rosario Liccardo è un giovane italiano nato a Mugnano di Napoli, vabbè. Nel footer non abbiamo né partita IVA, né codice fiscale, né privacy policy, né terms and conditions, nulla di tutto ciò. Non so perché abbiamo due chatta con noi, uno qua a sinistra, uno qua a destra, non si capisce. Comunque, voglio farvi notare, torniamo un attimo qui, voglio farvi notare questo fantastico prodotto, anelli temperatura buomo donna. Innanzitutto il bannerino, il chip qui con la scritta in offerta rosso su blu che è proprio illeggibile. Ma vabbè, tralasciamo. Per non parlare della scelta del font, che, vabbè, tralasciamo anche questo. Vediamo questo fantastico anello, anelli per la temperatura, uomo donna, 6,49 euro, ok, va bene, tutto sommato va bene. Con segna prevista, 55 giorni, minchia, fatto di diamanti sta anello, cioè di cosa è fatto. Comunque, leggiamo la descrizione, tutta roba scopiazzata, mezzo in inglese, mezzo in italiano, discount, wholesale discount, please contact us. Vabbè, ok, ok. Qui vediamo delle tendine, tutte vuote, ok. Qui addirittura un placeholder, image with text, un'immagine che ovviamente non c'è, free shipping, altro placeholder, altro placeholder. Vabbè, vabbè, supponiamo di voler comprare questo prodotto, acquista ora, sì, dai, acquistiamo. Ci ritroviamo in questo form, con questo logo praticamente invisibile, vabbè, ci chiede i recapiti, codice sconto. Tutto molto interessante. Ah, ma qui c'è l'informativa sulla privacy. Andiamo a dare un'occhiata a questa informativa. La prima cosa che noto, ma proprio la prima, la presente policy, bla bla, di questo sito web, raggiungibile all'indirizzo Rosario Riccardo, dice a noi, che cazzo, chi l'ha scritta questa informativa? Secondo me, quello che è successo è che questa informativa è stata copiata e probabilmente Rosario si è sbagliato al posto di mettere l'indirizzo del sito, ha messo il suo indirizzo email. Ma vabbè, tralasciamo un errore, può capitare a tutti, no? E sotto vediamo, va beh, i contatti. Ah, ma ci sono due link. Un privacy policy e cookie policy. Diamo un po'. Oh, copiancollaforlee.com? What? Ok, ok. Cookie policy cosa sarà? Oh, copiancollaforlee.com, ancora, ancora tu. Va bene, va bene, va bene. Torniamo indietro, andiamo a vedere termini e condizioni del servizio. Ok, tutto molto interessante. Fin qui non vedo errori. Sì, sì, sembra andare. Numero di telefono, l'email, tutto molto interessante. Sì, diritto di recesso. Ok, ok. Aspettate, aspettate. Credenziali di accesso? Il cliente è tenuto a costudire le credenziali di accesso alla piattaforma online comunicata da StartMeHubSRL con la massima cura. Quali credenziali di accesso? Ma soprattutto, che cazzo è StartMeHubSRL? Io sto sul sito di Riccardo Rosario. Quale SRL? Qui nemmeno abbiamo la partita IVA. Dove sta l'SRL? Eh, andiamo giù. Oh, qui abbiamo altri tre link. Termini e condizioni. Valerio.it Che è Valerio.it? Ma... Oh, guardate, StartMeHubSRL! Ma non sia mai che questa StartMeHubSRL è di Valerio.it! No, ma non ci credo! E anche Privacy e Cookie Policy è di Valerio.it! No, eppure la Cookie Policy! No! Ma no! Eh, Legal Notice, almeno questo non l'ha copiato. Ma è incredibile! È incredibile! E meno male che ci aveva messo giorni e notti, senza dormire, a fare questo sito. Ma questa è una cosa assurda! È tutto copiato! E poi... Grazie.